Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale Life Motivazione. Oggi volevo analizzare con voi un breve spezzone tratto da una conferenza di Silvio Berlusconi che si è tenuta il 29 ottobre del 2007. Ora non mi voglio soffermare tanto sul personaggio Silvio Berlusconi, in quanto può essere oggetto di critiche, cioè a chi piace e a chi non piace. Nel caso in specie voglio analizzare quelle che sono le sue affermazioni relative al successo. Essendo lui un uomo di successo, perché non approfittare di prendere qualche suggerimento relativo al suo percorso imprenditoriale? Andiamo ad analizzare il video. Tanto bisogna lavorare molto, lavorare tanto, dormire meno. Io sono arrivato con l'allenamento a dormire anche solo tre ore per notte. Fa benissimo. Il fatto che bisogna lavorare tanto è verissimo. Per raggiungere i propri obiettivi, ragazzi, non si raggiungono così dalla sera alla mattina, ma occorre veramente impegnarsi per raggiungere il proprio obiettivo. Guardo ragazzi, il fatto di dormire qui, non lo so, lui che cosa intende per dormire poco. Ovviamente non bisogna dormire un'intera giornata, ma occorrono almeno otto ore di sonno. Poi ci sono periodi in cui siamo più stressati e ci sta il caso in cui dobbiamo lavorare di più. In alcuni casi ragazzi dorme poco, a me mi è capitato. Come dicevo prima, ho già avuto modo di dire, avere le idee chiare su ciò che si vuole e fissarsi dei traguardi ambiziosi. Bisogna sapere che cosa si vuole nella vita, darsi dei traguardi, delle prospettive, ma non solo ragazzi lavorative, anche di vita, ma anche di sentimentale. Quindi bisogna sapere quello che realmente si vuole. Bisogna saperci circondare da collaboratori che siano anche degli amici, in modo che quando si fanno i sacrifici e si lavora tanto, non sembra di stare su un luogo di lavoro, ma ti senti come al bar in mezzo agli amici. E' importante ragazzi, sono d'accordo con lui. La mia esperienza ha avuto delle attività commerciali e vi posso dire che il rapporto che avevo con i miei collaboratori era di stima e amicizia. Ragazzi, amicizia non significa avere la confidenza come nel bar, perché comunque nell'ambiente lavorativo bisogna avere una certa disciplina, ma comunque far sentire al proprio agio i propri collaboratori. Quando c'è l'armonia e il rispetto reciproco, comunque si lavora meglio. Noi bisogna non deludere mai nessuno, a partire naturalmente dai collaboratori, ma non deludere mai i tuoi interlocutori. Questo è fondamentale, avere il rispetto degli altri, mettersi sempre nei panni degli altri, entrare in ogni settore con l'idea di verificare che tutto ciò che si fa in quel settore può essere cambiato nei metodi e avere sempre cioè la voglia di innovare. Magari anche avere a casa una mamma che dice un rosario la mattina e una la sera per te. Anche questo serve. Pizzico di ironia di Silvio, ormai la conosciamo. E' fantastico. Che dire, non bisogna mai perdersi d'animo. Ecco. E bisogna... Ecco ragazzi, seguite questi passaggi perché sono belli. Dicendo le belle cose. Quando si è dentro un male, saper cavare da un male un bene. Da ogni situazione negativa, saperla sacrificandosi, impegnandosi... Quando una cosa ci va male o comunque non la portiamo a compimento, molto probabilmente quella cosa che c'eravamo prefissati non era per noi, non faceva per noi. Da ogni situazione negativa e quindi da un male davvero tirar fuori un bene. E poi, che dire, avere anche capacità di improvvisazione, reagire, essere sempre brillanti, reagire a tutte le situazioni con immediatezza, non adagiarsi su cose che sono state decise. Il video si è concluso, credo che sia stato ben sufficiente per cogliere degli aspetti veramente che possono aiutarci in un percorso di crescita personale e lavorativa. Spero che il video vi sia stato utile e vi invito ad iscrivervi al mio canale. Ciao!